Le scadenze connesse alla tassa automobilistica in Sicilia da pagare entro il 31 gennaio verranno prorogate attraverso un decreto in fase di stesura al prossimo 29 febbraio per consentire ai contribuenti siciliani di avere accesso alle agevolazioni della norma stracciabollo e alle nuove scontistiche volute dal governo regionale. Le novità normative delle riduzioni del 10% sul bollo per la domicilazione bancaria e del 10% per chi è in regola con i pagamenti richiedono infatti degli adeguamenti gestionali su cui sta lavorando il Dipartimento Finanze assieme all'ACI e al sistema bancario. Attraverso la proroga gli utenti interessati dalle eminenti scadenze potranno fruire delle agevolazioni varate dalla Sicilia. Abbiamo fatto lo stracciabollo in questo momento storico che è importantissimo perché viviamo una crisi economica e spesso le famiglie finiscono con non pagare questa tassa odiosa quindi diamo la possibilità anche per il 2024 entro giugno 2024 di mettersi in regola ed è importante anche perché se tu sei in regola per il 2024 potrai avere una scontistica del 10% sulla tassa del bollo auto.